In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Così disse Gesù ai suoi discepoli in quel racconto centrale per il mistero cristiano che fu l'ultima cena nel modo in cui ce la racconta il Vangelo secondo Giovanni. E allora chi non conosce l'omonima tempera su intonaco di Leonardo da Vinci realizzata dal maestro fiorentino a Milano nel 1498. L'ultima cena di Leonardo da Vinci è così famosa che il mondo è pieno di riproduzioni. I pittori venuti dopo Leonardo hanno riprovato a dipingerla e qualcuno a rifarla con bello successo. Fino a Andy Warhol che ne ha tratto ispirazione per la sua pop art ma questo Natale una rivisitazione più che pop trash dell'ultima cena è sfuggita al suo creatore. Perché in Giordania il direttore del sito Al-Wahil, Mohammed Al-Wahil, si è lasciato andare a una vignetta fotomontaggio satirica proprio sull'ultima cena. Per farlo ha utilizzato una riproduzione di un'icona del trash popolarissima in Medio Oriente, lo chef turco Nusret Goce al secolo Salt Bay. Salt Bay che oggi possiede cinque ristoranti di carne tra la Turchia e gli Emirati e che presto ne aprirà altri a Londra e New York non parla mai ma compare su YouTube, su Instagram e su tutti i canali social più popolari brandendo pezzi di carne, sbattendo capre, cosce di vacca e polli macellati sui tavolacci del suo laboratorio. Quando inizia a tagliare i quarti di bue ci mette gestualità teatrale, sensualità e ironia anche se si prende molto sul serio. Al punto tale da essersi inventato un segno che è un po' la sua firma di riconoscimento, il lancio del sale con una sola mano sulla carne da lui preparata, un gesto che ormai tutti citano e imitano dai calciatori ai presentatori dei live show negli Stati Uniti. Mohammed Al-Wahil ha pensato bene di fare anche lui un omaggio a Salt Bay e lo ha collocato nella vignetta in prima pagina mentre sala dall'alto il passo dell'ultima cena, alle spalle di Gesù. Lo scherzetto ha fatto andare su tutte le furie la comunità cristiana giordana che si è rivolta alle autorità dello Stato. Così Al-Wahil, che è anche un famoso conduttore radiofonico, è stato arrestato per alcune ore e interrogato dalla sezione crimini per il web della polizia giordana per poi essere rilasciato appena ha chiesto scusa. In questo video si rivolge alla comunità cristiana giordana circa 6 milioni di persone, dicendosi rammaricato, solleva alcune responsabilità, dichiara di rimuovere la vignetta ed esprime vicinanza per le eminenti festività natalizie. Alla fine gli è andata bene perché rischierebbe dai 3 ai 6 anni di reclusione, con buona pace dello chef Salt Bay, su malgrado coinvolto, anche perché nella vicenda è intervenuto il vescovo vicario per i cattolici latini in Giordania, William Hannah Shomali, che, pur condannando la vignetta, ha invocato clemenza per il suo autore, senza accanimento, per non esprire gli animi. Resta da registrare quanto l'ultima cena sia fonte di ispirazione per parodie irriverenti, dal collettivo giovanile OVO al gruppo pop Hold Your Horses e tutto un fiorile di creazioni sul tema.